buongiorno da simona de santis e siamo tornati con vediamoci chiara dalle vacanze insomma tempo di soleone un po ormai alle spalle però sono qui con maria luisa barbarolo che è la fondatrice la coordinatrice l'anima il cuore pulsante del portale vediamoci chiara buongiorno buongiorno a te simona e buongiorno a tutti i nostri le nostre ragazze i nostri ragazzi che ci ascoltano diciamo che siamo tutti ragazzi anche se magari non siamo proprio ragazzini assolutamente sì io voglio dare un po di numeri 5 milioni di utenti i vostri che è un numero impressionante certe volte quando ci penso mi sembra il reale però è così abbiamo una media ormai di 450 mila visitatrici visitatori ogni mese di questi circa il 30 per cento ci viene a trovare nel racco del mese quindi vuol dire che siamo diventati un punto di riferimento vuol dire ma la soddisfazione vuol dire maria luisa che sotto l'ombrellone tutte queste ragazze ragazzi ragazzi hanno fatto tante domande sì sì veramente sì anche se adesso magari l'effetto delle vacanze purtroppo è finito perché siamo ritornati al biancore invernale però è vero che ci hanno fatto tantissime domande tra le domande che abbiamo ricevuto e che riteniamo sia importante per cui riteniamo sia importante parlare sicuramente quella relativa al caldo perché molte delle nostre utenti ci hanno chiesto ma io ho caldo perché fa caldo o perché superati 50 comincio ad avere le caldane in effetti anch'io mi sono posta questa domanda spesso quest'estate caldo o caldane ecco quindi sicuramente questo è un tema su cui ritorneremo con i nostri esperti perché evidentemente è un tema caldo caldo appunto e che quindi vi interessa particolarmente un'altra delle domande che abbiamo ricevuto è quella relativa a come prevenire l'invecchiamento cutaneo non so se perché ovviamente durante l'estate magari siamo più esposti al sole quindi è più facile che questo tema emerga però sicuramente il tema di come curare la pelle al meglio per evitare che si ovviamente si presentino rughe e quelle rughe diventino particolarmente profonde e poi durante le vacanze ci si lascia un po' andare quindi una delle domande è sono tornata con un aumento di peso ma dipende dal fatto che ho mangiato oppure non so sibillina e la tiroide e la tiroide sì questa è un'altra domanda che abbiamo ricevuto probabilmente proprio perché abbiamo fatto una survey un po' prima dell'estate e uno dei temi infatti una delle domande più frequenti che c'è stata è proprio ma aumento di peso perché è normale che sia così per via dell'età o aumento di peso perché ho la tiroide che sta facendo un po' la ballerina quindi a questo punto anche su questo anche questo è un tema sul quale ritorneremo a parlare a fare degli approfondimenti e poi maria luisa colpa o merito del sole delle endorfine positive della tintorella e del buon relax anche le donne che superano gli anta rivivono e riscoprono una certa sessualità assolutamente sì assolutamente sì ti dicevo prima nel backstage che l'altro giorno una signora di 70 anni mi ha detto ma voi voi cinquantenni siete le nove trentenni devo dire che l'avrei baciata l'avrei offerto il pranzo perché mi è sembrata una cosa bellissima però è vero nel senso che quando mi confronto con le mie coetanee obiettivamente uno dei temi ricorrenti è proprio il rapporto col partner ma anche la sessualità eccetera e sono molto contenta che sia così perché se vogliamo vivere fino a 100 anni e beh insomma no cerchiamo di vivere nel migliore dei modi anche con il nostro partner anche la nostra sessualità col partner quindi anche su questo tema torneremo ti interrompo perché insomma grande grazie a vediamoci chiara e soprattutto lunga vita vediamoci chiara ma noi adesso ci fermiamo per l'fm per gli amici di antenna 1 e torniamo tra pochissimo sul web allora intanto saluto tutti gli ascoltatori che sono in radio e risaluterò quelli che incontrerò sul web bene buona musica e a tra pochissimo restate lì restate connessi buona musica siamo sempre noi siamo sempre qui vediamoci chiara ma siamo sul web antenna 1.fm vediamoci chiara.it e qui con me maria luisa barbarulo fondatrice del portale vediamoci chiara il portale che vuole parlare di femminilità della salute della donna e della famiglia e non solo e prima stavamo parlando di tante domande che ti sono state fatte sono state sì che sono arrivata la redazione ci sono stati i nostri esperti durante durante le vacanze beh diciamo che ci sono altri un altro tema molto importante che è emerso che è quello di come prevenire tutte quelle che sono le patologie neurodegenerative chiaramente l'allungarsi della vita secondo me ha un po ha scoperto delle patologie che probabilmente prima non erano conosciute o erano conosciute solo per quelli che erano particolarmente longevi e quindi sicuramente disturbi come può essere purtroppo la demenza senile l'alzheimer l'arteriosclerosi e comunque osteopenia osteoporosi no tutte queste patologie che possono in qualche modo avere a che fare con l'invecchiamento privano sconosciute oggi si cominciano ad affrontare a studiare e anche a cercarsi chiaramente delle cure quindi molte domande riguardano sicuramente questi temi soprattutto come prevenire devo dire i disturbi neurodegenerativi. Maria Luisa però oltre alle persone insomma un po' più in là con l'età ci sono anche i giovani voi siete molto attivi soprattutto in questo campo mi viene in mente abbiamo parlato lo scorso inverno della campagna informa informi amici del mettiche punto abbiamo parlato con il professor Arisi insomma di tutta quella situazione in cui le ragazze giovani si trovano a scoprire la sessualità l'educazione alla sessualità e alla cura del proprio corpo e della propria persona ma come sono le ventenni di oggi cosa vi chiedono ma le ventenni di oggi purtroppo ci sembrano diciamo un po' sfiduciate nei confronti del futuro e questo secondo me è un gran peccato perché è vero che sono cambiati completamente gli scenari no quando avevamo vent'anni noi in ogni caso noi avevamo quasi un percorso tracciato e beh comunque lavorerai avrai un impiego poi conoscerai un uomo o sposerai quello con cui in ogni caso già esci avrai dei figli insomma sembrava un percorso una sorta di binario una storia io dico no come una storia già scritta no infatti forse per quello che alcuni di noi a 50 anni hanno deciso basta vado via rompo tutto cambio tutti gli schemi però le nuove ventenni secondo me che non hanno questo tipo di percorso in qualche modo già scritto e beh hanno tutta la vita davanti assolutamente si devono imprendere devono essere creative devono trovare degli spazi dove trovare la propria dimensione un po non ti nascondo che le invidio lo posso dire perché si trovano di fronte in una condizione completamente diversa insomma io faccio parte di quella genia a cui l'università è stata scelta dai genitori poi hanno scelto il giusto per carità però tante cose non non sono state scelte da me ma in qualche modo sono derivate un po dagli abitudini familiari mentre i ragazzi di oggi hanno l'opportunità di fare delle scelte completamente diverse e questa io credo che sia veramente una cosa fantastica anche perché ci sono orizzonti molto più ampli e quindi possono essere stimolati molto di più in quel concetto che è la creatività e trovare la strada giusta certo certo percorsi ben definiti in realtà ci si può rimboccare le maniche e pensare invece di fare qualcosa di veramente ad hoc e originale originale assolutamente io credo che tutti i mestieri creativi qual è il futuro secondo te parlavi nel backstage dell'imprenditorialità sì io credo che il futuro delle nuove generazioni sia verso l'imprenditorialità verso la creatività verso comunque tutti quei lavori che richiedono ma anche la ricerca per esempio ricerca scientifica tutti quei lavori che richiedono comunque il nostro la nostra capacità di essere umani di essere versatili di essere elastici di essere di andare oltre perché tutto ciò che potrà essere comunque meccanizzato sarà meccanizzato non sarà domani mattina ma già insomma breve si parla di auto che si autoguidano figuriamoci se no non sarà possibile meccanizzare più o meno tutto con questo messaggio comunque di grande speranza per il futuro non soltanto per le giovani ma anche per le signore che si vogliono rimettere in gioco noi ci salutiamo e ci diamo riappuntamento sull'fm quanto prima maria luisa barbarolo vediamoci chiara sempre sempre con noi sempre vicino a noi ciao a tutti grazie per il vostro tempo grazie per la visione